Ha già assunto il ruolo di procuratore capo di Marsala Vincenzo Pantaleo, sovrintendendo peraltro allo stesso arresto del presunto assassino del maresciallo Mirarchi. Nelle scorse ore Pantaleo è tornato a Sciacca per un saluto ufficiale dopo otto anni alla guida della Procura della Repubblica, nei confronti di colleghi, magistrati, personale in servizio, forze dell'ordine e avvocati. Procuratore, in poche parole, come sono stati questi anni per lei a Sciacca sul piano umano e su quello professionale? Sono stati anni fantastici sotto entrambi i profili. Sul piano professionale ho avuto delle grandissime soddisfazioni. Quando sono arrivato l'ufficio si è trovato in una condizione di particolare sofferenza che, come voi sapete, si è andata via via aggravando nel corso dei primi mesi fino a raggiungere una scopertura sostanzialmente totale del 100%. Poi questa situazione, per fortuna, perché il tempo passa e le situazioni migliorano, questa situazione è stata sostanzialmente risolta. Oggi lascio un ufficio che funziona perfettamente, l'organico è pieno, è un ufficio ben rodato, il personale amministrativo è assolutamente all'altezza del compito. Dal punto di vista umano, che vuole dopo otto anni di attività intensa, di presenza costante in ufficio, lascio degli amici, lascio degli affetti ed è davvero difficile staccarsene. L'approdo a Marsale non aveva un posto piuttosto delicato per le regioni che conosciamo, quello che significato ha? L'approdo a Marsale è stato immediatamente molto operativo, si sono verificati dei fatti di eccezione alla gravità, per fortuna, ieri abbiamo registrato la parziale soluzione di uno, è stato arrestato uno degli assassini a Maresciallo Vinarchi. E' una realtà abbastanza complessa, una realtà che registra fenomeni delinquenziali di un certo tipo, anche lì però devo dire che c'è un ufficio assolutamente adeguato e forse dell'ordine di assoluta capacità professionale. Ci verrò a trovare ogni tanto? Ci verrò a trovare, se voi avrete piacere di vedermi e di ospitarvi. Il posto del dottor Panteleo a capo della procura della Repubblica di Sciacca è già stato assegnato dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roberta Buzzolani, lombarda di nascita, già impegnata presso la direzione distrettuale antimafia di Palermo. A breve lascerà al Palazzo di Giustizia di Sciacca anche il presidente del Tribunale Andrea Genna, che andrà a ricoprire il ruolo di presidente del Tribunale di Trapani. Il CSM non ha ancora deliberato sul suo successore.